Quando è nata l'osteria, è nata per questo motivo, Mussolini fece una legge che le donne in attesa hanno bisogno di un pasto caldo. Il segretario comunale chiamò mio nonno e dice che su quella stanza che esce sulla strada principale mette un'osteria che prenderà questo pacchetto e tua moglie guadagnerà qualcosa. Codiglio e questo è un interiore di agnello. Abbiamo fatto una fusione tra gli ingredienti dell'irpinia e la città di Hong Kong. Adesso mi piace l'irpinia? Mi piace questo restaurant! Facciamo una settimana di cucina irpina a New York? Buongiorno! Buongiorno!